Partita IVA, finalmente il video definitivo per tutti coloro che stanno iniziando con la propria partita IVA oppure per tutti coloro che già hanno la propria partita IVA però vogliono capirne meglio, vogliono modernizzare tutto il proprio processo fiscale e tutto ciò che concerne la partita IVA e la nostra normativa fiscale. Più avanti nel video andremo ad approfondire tutto questo grazie all'aiuto e alla collaborazione con i ragazzi di Fisco Zen quindi assicurati di guardare il video fino alla fine. Io sono Stefano Montana, nel caso in cui non mi conoscessi mi occupo di e-commerce, di social media marketing, di dropshipping da ormai diversi anni e appunto nel corso di questi anni sono riuscito ad aiutare centinaia di persone a generare milioni di euro di fatturato per me, per i miei clienti e ovviamente lo faccio tuttora tramite la mia azienda. Quindi se tutto questo fa per te ti consiglio ovviamente di seguire questo video perché andrò a parlare appunto della mia esperienza con la partita IVA anche delle esperienze ovviamente positive e negative che ci sono state e anche la soluzione al problema diciamo che hanno soprattutto quelli che iniziano perché si trovano magari in una situazione dove il sistema comunque all'inizio non ti aiuta per niente anzi devi comunque affidarti a dei commercialisti che la maggior parte delle volte i commercialisti convenzionali quindi i classici commercialisti non sono comunque aggiornati o abituati a lavorare con l'e-commerce, business online uno dei più grandi ostacoli che ho visto affrontare da chi inizia con il proprio business online di e-commerce, social media marketing è proprio tutto questo aspetto fiscale che non viene affrontato in maniera ottimale dai commercialisti tradizionali infatti la soluzione definitiva sicuramente la offre Fisco Zen con i suoi consulenti specializzati nella fiscalità digitale e ogni consulente di Fisco Zen è esperto per quanto riguarda le nuove professioni digitali che al giorno d'oggi come sappiamo sono ormai sempre più crescenti quindi sicuramente a tutti coloro che stanno iniziando con la propria attività online Fisco Zen potrà dare loro un grande aiuto e più avanti nel video andremo a spiegare tutto questo nello specifico ma partiamo con la mia esperienza la mia esperienza comunque è nata appunto diversi anni fa con la partita di ovviamente in Italia e all'inizio ho riscontrato appunto tante difficoltà come abbiamo detto con il commercialista quindi non molto esperto del mondo e-commerce, social media marketing eccetera anzi mi guardavo un po' come un alieno e ripensando alla prima conversazione che ho avuto con il mio commercialista per quanto riguarda tutto questo mondo online, e-commerce, social media marketing tutta questa appunto finanza online un po' misteriosa mi guardava in maniera un po' strana ripensandoci in quel momento avrei avuto bisogno di un consulente esperto specializzato come i ragazzi di Fisco Zen con una consulenza gratuita mi avrebbero potuto aiutare subito sapendo esattamente di cosa avrei avuto bisogno e cosa avrei dovuto fare direttamente senza troppi studi, senza troppi problemi, senza troppo stress subito la soluzione ce l'avevo lì ovviamente a quei tempi ancora non li conoscevo quindi capite bene quanto sarebbe stato tutto molto più semplice però alla fine un po' anzi addirittura l'ho diciamo indirizzato verso un profilo fiscale più adeguato a quello che stavo facendo ovvero dropshipping e ovviamente tutto questo lavoro, tutto questo studio non è qualcosa che volevo fare ma è qualcosa che ero costretto a fare perché non c'era questa conoscenza dall'altra parte quindi per forza di cose mi sono dovuto informare quindi un sacco di tempo perso, un sacco di impazzimenti un sacco appunto di problemi per capire qual era il regime fiscale più adeguato alla mia situazione quindi tanti problemi che sono derivati appunto dall'inesperienza dei commercialisti convenzionali tutta questa esperienza ovviamente mi ha aiutato a capire un po' il sistema come funzionava però sicuramente se c'è qualcuno che te lo dice subito, ti spiega come vanno fatte le cose anzi ancora meglio te le fanno loro è tutta un'altra cosa quindi assolutamente altro suggerimento che posso dare appunto per chiunque si stia avvicinando la partita IVA per la prima volta di farsi aiutare subito da qualcuno senza ovviamente che sia preparato senza perdere troppo tempo anche perché il vostro obiettivo, l'obiettivo di tutti gli imprenditori sia che voi facciate dropshipping, social media marketing, e-commerce, private label qualsiasi tipo di business online, offline voi dovete concentrarvi sul fatturare e vendere perché è fondamentale, è quello che fa appunto generare cash flow quindi flusso di cassa, entrate, poi andrete a rinvestire per aumentare e incrementare il margine netto nel margine delle vostre vendite focalizzatevi sulle vendite, mi raccomando altra cosa fondamentale tutto ciò che riguarda per esempio anche proprio la selezione del regime migliore nel vostro caso specifico magari voi siete alle prime armi, inizierete con un regime appunto forfettario oppure direttamente ordinario, SRL qualsiasi sia la vostra situazione voi dovete sapere esattamente a che punto siete del vostro viaggio anzi colgo l'occasione per presentarvi appunto questa soluzione definitiva ovvero i ragazzi di Fiscozen che hanno aiutato tantissime persone a veramente fare il salto di qualità per quanto riguarda la propria gestione fiscale che come tutti ben sappiamo è fondamentale se ovviamente vendete in Italia e operate in Italia per qualsiasi cosa vogliate fare in Italia dal punto di vista fiscale Fiscozen è un servizio che ti permette di gestire la tua partita IVA completamente online grazie ad una piattaforma di adempimenti fiscali che ti permette di gestire qualsiasi tua esigenza fiscale e inoltre avrai a disposizione un consulente personale per qualsiasi tipo di esigenza che potrai contattare comodamente sia tramite mail che tramite telefono quindi se per esempio non sai che codice ATECO devi utilizzare per la tua attività oppure non sai quale regime fa al caso tuo per la tua specifica attività online vuoi toglierti ogni singolo dubbio che puoi avere sul tuo inquadramento fiscale allora tranquillamente puoi prenotare la tua consulenza gratuita con i ragazzi di Fiscozen e oltre a tutto questo la piattaforma di Fiscozen ti permette anche di gestire comodamente tutta la tua fatturazione elettronica di calcolare le tasse in tempo reale e anche una previsione dei pagamenti degli anni successivi che dovrai versare per quanto riguarda i tuoi adempimenti fiscali quindi capisci bene come Fiscozen riesce ad aiutarti a 360 gradi per quanto riguarda la tua posizione fiscale specifica quindi mi raccomando non fate gli errori che ho commesso io in passato ovvero di inesperienza, anche di magari troppo lavoro che non avrei dovuto fare io ma avrebbero dovuto fare altri Fiscozen appunto lo fa è il loro lavoro, sono dei specialisti, sono veramente dei professionisti nel settore infatti loro addirittura hanno questo software che ti permette di gestire da qualsiasi parte d'Italia ma anche del mondo tramite una connessione internet con il loro software, la loro piattaforma voi potete tranquillamente gestire tutto ciò che riguarda la parte fiscale del vostro business quindi praticamente delegate, ok? questo che dovete fare ragazzi quando crescete ma anche già all'inizio lo potete fare quando voi veramente state anche sviluppando il vostro business online il vostro e-commerce, dropshipping, social media marketing e-commerce, private label, qualsiasi cosa voi stiate facendo dovete sempre delegare il prima possibile quindi concludendo un po' tutta la mia esperienza per quanto riguarda il mondo della partita IVA delle tasse, che cosa bisogna fare, che cosa bisogna non fare diciamo che se dall'inizio avesse avuto qualcuno che mi avesse aiutato veramente che avesse già esperienza e non avessi dovuto fare tra virgolette quasi tutto da solo soprattutto all'inizio che già dovevo pensare a tantissime altre cose per quanto riguarda il mio business ovviamente sarebbe stato tutto più facile bisogna sempre rimanere aggiornati sul pezzo e non fare le cose a caso mi raccomando, per l'apertura della partita IVA per chi sta iniziando da zero magari sta aprendo la propria attività di dropshipping per la prima volta o magari è già avviato tramite il private label ha il suo brand, il suo e-commerce il suo business tramite social media quindi business online per qualsiasi tipo di aiuto fiscale per quanto riguarda le normative fiscali tutto ciò che abbiamo detto Fisco Zen è veramente una soluzione ottima ed efficace ora che conosci Fisco Zen e sai come possono aiutarti non esitare a contattarli contattali attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione e utilizza anche il codice STEPMONTANA50A per ovviamente approfittare di un vantaggio esclusivo tutto quello che devi fare è cliccare il link che trovi in descrizione se ovviamente avete bisogno di aiuto potete anche commentare qui sotto questo video per qualsiasi domanda ovviamente relativa in generale anche la vostra esperienza tutto ciò che avete fatto io sono Stefano Montana ho generato milioni per i clienti e studenti attraverso le vendite online e mi occupo di e-commerce, dropshipping e social media marketing quindi per qualsiasi tipo di domanda o dubbio puoi anche farmeli qui sotto o direttamente al mio sito web opensourcebusiness.it ci vediamo al prossimo video